Insieme a Pina Picerno, onorevole del Partito Democratico, a Termoli per presentare la sua candidatura in Europa, capolista per il Sud del partito di Matteo Renzi. Eccoci, eccoci, ciao. Ciao, allora questa sfida europea con tutte donne a guidare le 5 circoscrizioni, una sfida importante quella di Matteo Renzi per cercare di arginare la rimonta di Grillo. Beh, una sfida importante intanto per il significato politico che hanno ovviamente queste elezioni, il cambiamento del nostro paese passa anche attraverso un'Europa diversa, noi abbiamo conosciuto un'Europa molto capace di puntare il dito negli ultimi anni, poco capace invece di tendere la mano e noi vogliamo invece un'Europa che torni a essere quella della cooperazione, quella della solidarietà, quella dei popoli, ecco quindi meno Europa dei tecnocrati, dei banchieri, più Europa accogliente, dei popoli che ci aiuti a prendere delle decisioni nell'interesse appunto delle persone, nell'interesse appunto dei cittadini e questo è quello che vogliamo fare, quindi dopo aver cambiato verso l'Italia vogliamo cambiare verso anche l'Europa. In questa settimana sei stata al centro della polemica con Beppe Grillo che ti ha attaccato per la tua battuta degli 80 Euro, però sei stata brava anche a rispondere con la lista della spesa Ballarò dando dimostrazione e comunque il Partito Democratico in tema di comunicazione da quando c'è Matteo Renzi è veramente al top. Guarda, io alle battute, gli insulti e le ironie di Grillo e di Grillology perché è una setta ormai, insomma che abbiamo ribattezzato Grillology, rispondo con un sorriso e con la convinzione di chi sa di essere dalla parte giusta perché possono ironizzare quanto pare a loro, dopodiché da maggio 10 milioni di italiani avranno 80 Euro in busta paga, qualcuno li utilizzerà per fare la spesa come ho dimostrato diciamo io, qualcun altro li utilizzerà per andare a mangiare una pizza fuori con i propri bambini, un paio di volte si mangia una pizza fuori con 80 Euro, qualcun altro li utilizzerà per comprare un paio di scarpinovi, insomma ognuno farà con questi 80 Euro quel che gli pare. Il dato certo è che restituiamo agli italiani, a 10 milioni di italiani un po' d'ossigeno e li restituiamo soprattutto alle persone che hanno sempre soltanto dato perché questo è il paese nel quale si sono privilegiati i ricconi, quindi con gli scudi fiscali, sempre i soliti, mentre la maggior parte degli italiani si è chiesto sempre sacrifici. Noi pensiamo che in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo chi ha di più deve dare una mano e vogliamo a nostra volta dare una mano a chi l'ha sempre data in questi anni. Ultima battuta, hai conosciuto oggi il candidato sindaco del PD a Termoli, Angelo Sbrocca, ovviamente era la tua prima occasione con lui, che persona ti è sembrata? Beh, mi è sembrata una persona di buonsenso che riuscirà a guidare sicuramente questa città nel migliore dei modi. Ho conosciuto anche una serie di candidati molto motivati, candidati al consiglio comunale, insomma mi sembra un'ottima squadra che sono sicura riuscirà a restituire a Termoli il futuro che Termoli merita. Ultimissima battuta, quando andrai a Bruxelles la prima cosa che penserai di realizzare? Beh, intanto io mi preoccupo di portare a Bruxelles la bellezza di questo mezzogiorno troppo spesso abbandonato, lasciato solo, che è fatto di tante storie meravigliose e quando parlo di bellezza parlo non solo di luoghi ovviamente ma anche di storie, di esperienze come quelle che ho conosciuto stamattina di persone che scelgono di dedicare il loro tempo alla propria comunità, penso associazioni a chi si rimbocca le maniche, ecco questo mezzogiorno sarà il centro delle cose che voglio fare con un occhio ovviamente a tutto quello che succede sul fronte, fondi strutturali che sono stati sempre utilizzati molto male e decisioni che vengono prese nell'interesse ovviamente, che devono essere prese nell'interesse dei cittadini. Grazie, un saluto da Termoli TV Ciao